L'ennesimo donno molto gradito al territorio. La quattro giorni di iniziativa per festeggiare al meglio i primi 25 anni di attività dell'Associazione Misericordi di Roccasecca è entrata nel vivo a Castrocello con una serie proprio di attività di screening gratuiti per prevenire le numerose patologie del sistema otorino-laringoiatra, osseo e più complessivamente per migliorare lo stato di saluto del paziente. Abbiamo messo questo PMA diviso in tre moduli. In ognuno di questi moduli facciamo praticamente degli screening e ci stiamo dedicando a quello che è un po' di prevenzione. Partiamo con dei parametri vitali di base, pressione arteriosa, stick glicemici, esame audiometrico. Abbiamo praticamente la collaborazione del centro diagnostico Arce con un laser di nuovissima generazione quindi mettiamo a disposizione delle visite fisiatriche per problemi annessi allo scheletro se vogliamo definirlo in questo modo, tutto l'apparato scheletro muscolare e abbiamo a disposizione anche delle mammografie e tante altre cosette. E tanti sono stati i cittadini che hanno preso assalto la politica struttura allestita nel piazzale Capodacqua è la stessa che abitualmente viene utilizzata per i fedeli che partecipano alle manifestazioni pubbliche di Papa Francesco. Sì, questa struttura è diventata ormai l'orgoglio di questo territorio perché questa è la struttura che sistematicamente viene messa a servizio per gli eventi di Papa Francesco. È una struttura che ci è stata donata all'inizio dell'anno e che abbiamo utilizzato moltissimo. È una struttura polivalente che può essere utilizzata per tante e tante necessità. Diventa un ospedale di primo livello per le maxi emergenze, l'abbiamo utilizzata a Canneto per essere un ospedale di secondo livello e oggi la utilizziamo qui come tre piccoli ambulatori dove poter sottoporre i pazienti a quelle che sono le nostre attività di prevenzione. Dopo la presentazione del corso di laurea dedicata al terzo settore, tante e diverse sono le iniziative in programma sino a domenica, alcune delle quali rigorosamente legate al territorio e alla salvaguardia della sua memoria. Facciamo attività sia dal punto di vista sociale, quindi abbiamo partecipato a tanti progetti che hanno lo scopo di utilizzare queste tecniche sia per una riabilitazione manuale che sia per una riabilitazione psichica oppure per uno scopo semplicemente aggregativo, sociale, che abbina un valore tradizionale a un potenziamento dei rapporti interpersonali.